La mancanza di neve e le alte temperature che impediscono la messa in funzione dei cannoni sparaneve fanno slittare l'apertura della stagione scistica, tradizionalmente fissata in occasione del ponte di Sant'Ambrogio. Era tutto pronto sulle orobbie per il via del Circo Bianco, ma purtroppo è venuto a mancare la materia prima e a complicare la situazione ci si è messo un clima non del tutto invernale. Finora di notte non si è mai andati sotto lo zero e i cannoni non hanno le giuste condizioni di umidità e freddo. Secondo gli esperti, per realizzare le piste con la neve artificiale servono almeno 10 giorni di freddo costante. E purtroppo le prospettive non sembrano rosee, almeno per questa settimana. Insomma una situazione ben diversa da quella dello scorso anno, quando addirittura la stagione partì in anticipo a novembre. Per quanto riguarda gli impianti della nostra zona, le seggiovie del Montepore e della Presolana resteranno ferme. Forse sarà aperto l'impianto di risalita che porta al rifugio Pian del Termen. Anche a Lizzola le seggiovie resteranno ferme, mentre agli spiazzi di gromo, nonostante l'assenza di neve, da domani a domenica sarà in funzione l'asseggiovia che porta al rifugio Vodala. Inevitabili le ripercussioni sulle presenze alberghiere. Oggi l'eco di Bergamo riporta alcune testimonianze di operatori del settore. All'albergo Plan del Sole di Colere ci sono molte prenotazioni, ma solo dal 17 dicembre in poi, quale precedenti sono state disdette. All'hotel Lizzola 2000 si parla di un disastro. Per trovare delle prenotazioni si deve guardare ai tre o quattro giorni a cavallo con l'ultimo dell'anno. Fa eccezione Castione della Presolana, dove le prenotazioni non mancano. Anche se le stazioni scistiche sono chiuse in paese ci sono alternative per divertirsi. All'hotel Milano di Bratto si registra il 50% in più di prenotazioni.